ora però sai che c'è secondo me che forse lo fai tornare indietro un po troppo il rischio è che se sta troppo vicino a una parte si si se la faccio la faccio la fa bravo 3 over 3 su el di tantà wow ah 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 che guerra sposta lo sposta sta per trovare la trova no la troverà prima o poi la troverà ma ci può mettere anche ore no se uno lo mette lontano non è vero esce fuori